la filosofia esattamente quella cosa che non permette una definizione univoca ora non vorrei cavarmi in questo modo un po' furbesco ecco perché mentre è possibile definire la fisica, la chimica e la biologia ed è possibile anche definire il diritto all'economia e la sociologia ovviamente sempre in modo discutibile e così via la filosofia per sua propria natura contiene due elementi che non permettono una definizione definitiva perché da un lato la filosofia si occupa di ciò che è ed è eternamente ed è vero contrapposto al falso del bene contrapposto al male ma il bene e il vero passano attraverso la storia attraverso il filtro della storia e siccome la storia è composta di generazioni diverse ogni generazione è costretta lo voglia o no a ridefinire la definizione di filosofia in modo diverso questo capita anche apparentemente alle scienze perché la fisica einsteiniana critica quella newtoniana ovviamente la chimica di Lavoisier e di Avogadro critica la chimica del flogisto naturalmente però direi che è la cosa radicalmente diversa la filosofia spiegare cos'è la filosofia è impossibile si può soltanto dire per me la filosofia è preferibilmente questo però sia chiaro che la mia definizione non è esaustiva perciò avendo fatto questa premessa dovuto al fatto che il filosofo parla sempre inserito ed immerso nel suo tempo storico per cui deve confrontarsi con delle tematiche permanenti che sono le stesse al tempo di Platone Aristotele ma ogni generazione è obbligata a farlo in maniera diversa la filosofia a differenza delle scienze non ha sogli di irreversibilità mi spiego mentre per esempio l'astronomia una volta scoperto che la Terra gira intorno al Sole e perciò non può tornare indietro per cui diciamo che il superamento del modello geocentrico è irreversibile in quanto non si torna più in filosofia questo non c'è perché in filosofia Platone può sempre avere ragione per cui non esiste la solida diversità per quello che quando sento dire nei giornali che la filosofia non è più di moda mi fa ridere le mode durano 10 o 20 anni per cui il fatto che alcuni professori universitari decidono che una mode finita riguarda loro i loro amici i loro parenti i loro cugini ma non riguarda la filosofia ovviamente per cui io direi che la filosofia è un'esigenza irrinunciabile dell'essere umano in quanto tale come essere problematico come essere dotato di linguaggio e non è soltanto il linguaggio delle api cioè il linguaggio della segnalazione ma un linguaggio carico di significati e poi come dice Jaspers correttamente l'uomo è l'unico animale che sa dover morire cioè consapevole dover morire ed essendone consapevole è costretto a dare un significato al segmento limitro temporale della sua vita essendo un animale che sa di dover morire è costretto a dare un senso a quello che fa l'animale invece è vero che dicono gli elefanti quando si sentono male vanno a cimitare gli elefanti e così via però non credo che l'elefante ci pensi penso che l'elefante non sono un etologo senta semplicemente venire meno le forze biologicamente geneticamente credo non lo so non vorrei dire stupidaggini sarei curioso di saperlo da un vero etologo l'uomo invece è costretto per la sua autoconsapevolezza a dare un significato al segmento limitato della sua vita siccome però questo segmento lo passa con altri non lo passa come Robinson da solo è obbligato a dare un senso non soltanto autocentrato ma relazionale cioè l'uomo è costretto a dare un senso alla sua vita e a darlo relazionale per cui la filosofia in un certo senso potremmo definirla come una forma di elaborazione del senso relazionale questa definizione però è del tutto provvisoria è del tutto discutibile non è affatto una definizione definitiva se però visto che lo chiedete a me come filosofo vi do questa provvisoria definizione a me Grazie a tutti.